Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Andrea Cervone e in questo video andiamo a vedere le novità di iOS 8.3 Beta 1. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, come vi dicevo oggi al centro della scena c'è iOS 8.3 Beta 1 che io ho installato sul mio iPod Touch. In realtà l'avrei dovuto installare su iPhone per farvi vedere al meglio le novità, ma al momento preferisco conservare il jailbreak. Allora, iOS 8.3 è questo qui, lo vedete, quindi è la versione ultima in Beta di iOS. Attualmente è disponibile solo per sviluppatori insieme ad iOS 8.2. iOS 8.2 non ha praticamente novità finali per l'utente, mentre iOS 8.3 qualche piccola modifica ce l'ha. Quindi andiamo a vederle subito insieme. Allora, la prima novità che purtroppo non posso mostrarvi perché riguarda CarPlay sta nell'aggiunta della compatibilità alla connessione wireless. Quindi adesso tutti gli utenti possono connettere l'iPhone al sistema CarPlay senza dover utilizzare alcun cavo Lightning. Ovviamente ciò si applica soltanto alle auto compatibili. È stato poi introdotto l'accesso a due passaggi per quanto riguarda gli account di Google. Quindi adesso, come da recente modifica appunto di Google, possiamo accedere ai servizi come Gmail e così via con una verifica in due passaggi. Quindi se io ad esempio vado ad aggiungere un indirizzo mail Gmail al mio iPod, ci sarà, vedete, questa nuova verifica che solitamente non accade sui dispositivi aggiornati ad una versione precedente del sistema operativo. Vi faccio vedere rapidamente sul mio iPhone che ha iOS 8.1.2 che effettivamente questo passaggio non c'è. Se io premo su aggiungi account Google, vedete, mi viene direttamente aperta la schermata in cui inserisco la mail. Invece adesso con iOS 8.3, appunto, secondo le recenti modifiche di Google, dovremo passare da questa schermata di login e poi inserire i nostri dati. Ma senza dubbio la novità più importante di iOS 8.3 al momento sono le nuove emoji. Vi ricordate? Queste sono, o meglio, non dovete ricordarvi, queste sono quelle che utilizzate attualmente sul vostro dispositivo. Quindi avete questa schermata che scorre in questo modo, ci sono i simboli sotto che ci consentono di riconoscere più o meno il simbolo della emoji principale. E quindi da qui possiamo muoverci, abbiamo anche la sezione recenti. Mentre su iOS 8.3 arrivano su tutti i dispositivi queste nuove emoji. Come vedete abbiamo quelle utilizzate di recente, poi scorrendo in automatico, senza stare qui a tappare, possiamo passare da una categoria di emoji, ad esempio persone, questa qui, con tutti gli stati d'animo, alla successiva, quindi natura, cibo e bevande, festeggiamenti, attività, viaggi e luoghi e così via. Chiaramente possiamo anche muoverci da qui in basso per saltare rapidamente da una categoria di emoji all'altra. E il pulsante invece recenti ci consente sempre di visualizzare in questo modo tutte quelle più recenti. Cosa ne consegue? Una interfaccia secondo me più ordinata, bisogna un attimo abituarsi, si vedono più emoji tutte contemporaneamente, quindi anche questo non è un contro. Inoltre le emoji sono state anche migliorate perché adesso sono state disegnate meglio, sono leggermente più in alta definizione se non erro e in generale funzionano meglio perché la selezione è più rapida e se non erro c'è neanche qualcuna aggiuntiva. Adesso mi risulta difficile trovarle così al volo, ma mi è sembrato ad esempio questo coccodrillo, non sono sicuro che ci fosse, mi sembra che ci sia qualcosa di nuovo rispetto a quelle che avevamo in questi anni conosciuto. Quindi nel complesso c'è qualcosa di nuovo anche, ma soprattutto la novità principale è questa nuova interfaccia. Sempre per quanto riguarda invece le novità che non posso mostrarvi perché questo è un iPod, l'ultima novità molto richiesta di iOS 8.3 riguarda la possibilità di selezionare manualmente su iPhone e iPad con 3G la velocità di connessione. Come sappiamo infatti su determinati operatori che già lo supportano, l'iPhone già ora consente di selezionare la rapidità della connessione dati. Sul mio iPhone con rete 3G, o meglio scusate H3G, non è prevista questa opzione. Invece con iOS 8.3 arriverà per tutti i dispositivi, a prescindere dalla versione dell'operatore. Quindi sarà possibile scegliere a livello di firmware, e non di un qualcosa legato all'operatore, la velocità con cui navigare. Quindi tra 3G, 2G, se vogliamo andare più lento e risparmiare batteria, o 4G. Infine l'ultima notizia riguarda Apple Pay, che con iOS 8.3 viene aperto anche alla Cina, grazie alla collaborazione con Union Pay. Bene ragazzi, quindi queste sono le novità più importanti di iOS 8.3. Vi parlo anche un po' della stabilità prima di chiudere, perché sul mio iPod Touch la situazione sembra essere un po' migliorata. Il dispositivo mi sembra leggermente più fluido rispetto ad iOS 8.1, e in generale un po' più responsive, un po' più veloce nella risposta. Magari è soltanto effetto placebo, magari migliorerà ancora. Ricordiamo che nelle beta ci sono sempre attivi dei processi che poi vengono rimossi nelle versioni finali, ma in ogni caso questo è iOS 8.3, queste sono le prime novità. Aspettiamo le prossime beta per capire quanto migliorerà il nostro iPhone, il nostro iPod, il nostro iPad dopo questo aggiornamento. Per quanto riguarda la disponibilità, si presume che se iOS 8.2 arriverà entro fine febbraio, iOS 8.3 arriverà entro fine marzo. Anche per oggi è tutto, io sono Andrea Cervone, vi ringrazio per aver guardato questo nuovo video e noi ci risentiamo alla prossima. Ciao a tutti! Ehi, clicca su di me se vuoi scoprire le migliori applicazioni per iPhone settimana dopo settimana. Oppure clicca su di me se vuoi scoprire le ultime notizie sul mondo Apple e iPhone dell'ultima settimana. Oppure clicca su di me per farmi una domanda sull'iPhone ma anche su qualsiasi altra cosa. Oppure clicca su di me per scoprire tutti i segreti del mondo iPhone e i consigli per utilizzarlo al meglio. E non dimenticare di iscriverti al canale se non l'hai già fatto.